Siglato un accordo strategico tra Confcommercio e un plipese urbino ai fini della promozione turistica e sviluppo economico. La stretta di mano tra i rappresentanti delle due attività è andata in scena nella giornata di giovedì presso la sede di Confcommercio Marche Nord. Lavorare insieme, lavorare uniti sicuramente si produce un prodotto importante per il nostro territorio. Quando noi mettiamo insieme i volontari e i professionisti sono sicuro che alla fine raggiungeremo un risultato straordinario. Noi dobbiamo arrivare a questo risultato, a un aiuto economico per le imprese del nostro territorio in questo momento di crisi. Proloco e Confcommercio da anni operano a vantaggio della comunità promuovendo iniziative in campo turistico e valorizzando i borghi presenti nel territorio. L'accordo siglato ieri è necessario per unire le forze perché i fini sono comuni e serve maggior forza nel dialogo con le istituzioni comunali e regionali. Due soggetti che non possono più non collaborare, cioè è necessario mettere insieme le nostre forze. Ci sono tanti temi che interessano le nostre comunità, che interessano le nostre imprese e le nostre città e rafforzare la nostra presenza unitariamente nel confronto ad esempio della Regione Marche, delle amministrazioni comunali è essenziale. Anche perché noi siamo in grado di dare un servizio ai turisti che le strutture regionali non sono in grado di dare. Perché i nostri punti di informazione lavorano 365 giorni all'anno, festivi compresi e spesso anche di notte. Purtroppo invece gli uffici regionali lavorano dal lunedì al venerdì e a sabato e a domenica quando ci sono i turisti gli uffici sono chiusi. Quindi metterci insieme vuol dire anche rafforzare le nostre ragioni nei confronti delle istituzioni.